La cantera adriatica si aggiudica ai rigori in finale con la delfino Folgore Curi-Pescara, il primo memorial in ricordo di Christopher Thomas Luciani all'antistadio Flacco di Pescara, ma alla fine in realtà a vincere sono stati proprio tutti le squadre giovanili che hanno partecipato al mini-torneo, le autorità che hanno accolto l'invito dell'associazione Crocs, sopra il nome di Christopher, gli organizzatori e soprattutto i tantissimi ragazzi che hanno gremito gli spalti del Flacco per fare idealmente gli auguri a Christopher nel giorno in cui avrebbe compiuto 17 anni. Tutti si sono raccolti in un lungo e forte abbraccio a nonna Olga, capace di trasformare un inconsolabile dolore in un'azione forte e decisa per affronteggiare il sempre più strisciante fenomeno del disagio giovanile. Dobbiamo creare un varco, una porta, un punto di ascolto per i giovani, che i giovani vogliono parlare, devono essere sentiti, ascoltati, amati, dallo sconosciuto, dalla famiglia, dall'amico e da tutti. Bisogna essere tutti quanti compatti, tutti insieme, possiamo fare per cambiare questa generazione che è andata un po', si sta perdendo. E Olga è pronta ad essere la nonna di tutti? Sicuramente sì, oramai sì, non ho più questo onore di averlo con mio nipote, ma voglio essere la nonna di tutti perché io amo i giovani, sto bene con loro, mi piace parlare con loro, io sono disponibile a tutto quello che voi volete, un consiglio, una parola. Io ci sono e questo mi fa piacere che oggi Christopher è ricordato per quello che veramente era, un ragazzo speciale. Il mio amore sta lassù. Oltre alla cantera adriatica, la delfino Folgo Recuri Pescara, che prima delle gare ha regalato una maglia con il nome di Crocs a nonna Olga, al Memorial hanno partecipato anche una scuola giovanile del Pescara, e una rappresentativa di Amici di Christopher con il nome Amici di Crocs, allenata da Ezio Marganella. Questi ragazzi che li ho presi un po' da vari paesini, tutti insieme, tutti amici, e vediamo un po' chi gioca, chi non ha giocato mai a calcio. Proviamo a farci questa partita, onorando, ricordando il loro amico Crocs. Speriamo bene, dai. Sono anche bei momenti per, insomma, lo sport aiuta anche a ricentrare un po' quelli che sono i veri valori. Assolutamente sì, rispetto l'educazione, tante cose. Pure se questi giovani in questo mondo hanno tante deviazioni, e quindi lo sport passa come seconda cosa. Però noi come mister, io faccio allenatore della scuola calcio, ci provo, ci metto tutto il mio impegno per riducare questi ragazzi. Tante anche le autorità presenti, nessuno ha voluto mancare. Dal vice prefetto Losa al vice questore Sorgonà, il parrocco di Rosciano, Don Marco, i dirigenti delle squadre partecipanti, e poi gli interventi del sociologo Gagliano Cocco e la psicologa Francesca Costanzo, dal vice sindaco di Rosciano, Barbara Blasioli, e del sindaco di Pescara, Carlo Masci, che nel sottolineare il grande insegnamento che Olga ha saputo dare a tutti, ha annunciato la nascita di un parco giochi sul luogo della tragedia e la piantumazione di un albero in ricordo di Christopher. Oggi proprio abbiamo fatto un sopralluogo con i responsabili di RFI e con degli architetti che RFI ha portato, proprio per creare un percorso vita in quell'area, per creare un parco giochi per i bambini e anche per concordare la messa a dimora di un albero che possa ricordare, purtroppo, questo evento drammatico, delittuoso, ma che deve trasformarsi per tutti quanti noi in un momento di riflessione e di vita per guardare al futuro in nome di Christopher e anche della nonna.